Il corso ha avuto un ottimo impatto dal punto di vista del gruppo degli insegnanti, i quali in qualche modo si sono dovuti porre la domanda, o consciamente o inconsciamente, perché ha stimolato attraverso le discussioni, attraverso tutti gli argomenti trattati e argomenti non banali assolutamente, quindi poi presi dalle loro mille sfaccettature, senza pregiudizi, senza stereotipi, questa è stata la cosa fantastica, cioè buttare sul tavolo una serie di stimoli ai quali poi ognuno mentre tornava a casa ha dovuto per forza ripensare, quindi siete stati abilissimi perché in qualche modo siamo stati costretti a pensare come noi tutti gli adulti che hanno partecipato, ognuno di noi ha riportato a casa qualcosa senza rendersene conto spesso, spesso ci ha ripensato una settimana dopo, un mese dopo, e poi la domanda successiva è ma io cosa posso fare? E se permettete, questa è stata una cosa fantastica, perché se io riesco a stimolare i miei alunni o ad essere stimolata al punto tale che mi rimetto in discussione e comincio a ricostruire un pezzo della mia didattica, del mio fare, del mio porti, del mio relazionarmi, perché penso che quello che ho avuto o comunque che avevo non è più idoneo a stare in questa società piena di tante cose, positive e negative ovviamente, quindi credo sia stato un corso veramente grande dal punto di vista della formazione, ci ha formato e ci ha restituito forse anche la fiducia di poter fare ancora qualcosa, nonostante tutto ciò che si dice della scuola, dei ragazzi, della società, tutte le negatività, insomma ancora abbiamo qualcosa da imparare e da dare. Il progetto partiva naturalmente come un tentativo di prevenzione della violenza, partendo dalle origini. Io ho impostato il corso, la parte che mi riguardava, pensando di parlare non tanto della relazione fra uomini e donne, ma prima ancora della relazione fra persone e quindi ho cercato di parlare delle condizioni che facilitano una buona crescita. Questo per me era il centro, il cuore del progetto, perché soltanto creando le condizioni per una buona crescita e insegnando quindi il rispetto per l'alterità, si può parlare poi di prevenzione della violenza e di una buona relazione fra uomini e donne, quindi fra persone, fra adulti, bambini, maschi, femmine, ma questo viene dopo. Prima di tutto c'è il riconoscimento dell'altro e per fare questo bisogna cominciare a aiutare i genitori e gli insegnanti a riflettere sul modo in cui si relazionano con le creature che devono crescere e in che modo si devono rispettare e insegnare il rispetto. È la prima volta che facciamo una cosa del genere e questa è una cosa molto positiva, anche perché c'è un problema abbastanza serio che riguarda gli aggiornamenti a scuola, che non sono più obbligatori da diversi anni, per cui gli insegnanti non sono spinti da nessuna motivazione, né obbligatoria né di incentivo a frequentare questi corsi. È stata una novità positiva, molto positiva, anche perché proprio non essendo obbligatorio hanno frequentato solo le persone che erano veramente interessate e devo dire che tra gli insegnanti c'è stata una bella risposta. Noi in passato abbiamo fatto una miriade di corsi, alcuni anche sulla relazione, però in genere si occupavano di gruppi misti e ci siamo andati sempre ad occupare delle relazioni in un gruppo di pari, quindi o in un gruppo di bambini o in un gruppo di adulti. Mai però discernendo bambini e bambine, maschi e femmine. E questo corso da questo punto di vista è stato illuminante, ci ha aperto un mondo che non è che non conoscessimo, però diciamo al quale finora non avevamo dato la sufficiente importanza, soprattutto alla luce di tutto ciò che ci circonda e tutto ciò che si dice, che si sente, che si vede, e proprio le suggestioni alle quali siamo tutti sottoposti, negative e positive, perché diciamocelo, ripensare se stessi, ripensare la propria sessualità, ripensare le proprie emozioni, ripensare il rapporto con l'altro sesso, è stato un ottimo lavoro, stimolantissimo e che ci ha aperto veramente un orizzonte di ricerca per chi ha voglia di approfondire, di migliorare, di mettere tutto questo a disposizione dei ragazzini, dei bambini e degli adulti, perché la prima cosa da fare è proprio ripensare noi stessi, di guardare un po' all'indietro il nostro vissuto e cercare di calibrare quello che lasciamo, il vissuto che stiamo costruendo in qualche modo per le generazioni future, perché questo poi dovrebbe essere il nostro mandato, quello di dare ciò che abbiamo e costruire un pezzetto più in là di dove siamo. È stato un corso molto bello, è stato un aggiornamento che ci ha arricchito, anche perché non è stato formale, ma le persone, i formatori, gli psicologi che hanno dato le lezioni erano persone che hanno veramente interagito con noi, ci hanno veramente dato la possibilità di eliminare dei dubbi che avevamo a livello personale, quindi un aggiornamento vivo, un aggiornamento che è giunto proprio fino ai nostri cuori, nelle nostre menti, perché come diceva la collega non abbiamo mai l'opportunità di frequentare aggiornamenti se non cercati da noi, questo è stato a scuola, infatti io ho frequentato con piacere tutte le lezioni, ho trovato i formatori tutti preparatissimi e veri, disposti ad aiutarci a risolvere dubbi, oltre che a fornirci una notevole quantità di conoscenza. Questo ha scaturito un dialogo con le altre colleghe sulla crescita del bambino, sullo sviluppo evolutivo del bambino, sulle problematiche relazionali e anche sul fatto che senza rendercene conto spesso cadiamo negli serotipi di genere e quindi è stato un corso bellissimo a tutti i livelli. L'elemento positivo direi che è stata proprio una risposta a quella che era la mia proposta, cioè di non parlare di relazioni fra uomini e donne, ma di relazioni fra persone. Ho sentito che proprio c'era una grande interazione e un grande interesse a questo, un grande interesse a considerare che tutto nasce poi fin dall'inizio nella costruzione dell'identità delle persone, in tutto quel lavoro faticosissimo che i genitori e insegnanti fanno per aiutare un nuovo essere a costruire se stesso. Io ho sentito appunto che proprio questo era quello che stava anche a cuore di chi mi ascoltava, perché si è parlato delle prime fasi della crescita, di come è complicato fare i genitori, di come è complicato fare gli insegnanti, della collaborazione che ci deve essere tra di loro, ma tutto era teso proprio a stimolare delle riflessioni. Ed è questo che le persone hanno fatto anche nei loro interventi, nelle loro proposte, nelle loro domande. Io ho sentito fondamentalmente questo, come a partire da poche informazioni che io ho potuto dare, si stimolavano pensieri, perché il compito è sempre quello di stimolare le persone a riflettere, a pensare sul modo in cui si relazionano con gli altri. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. L'esperienza del corso per me è stata un'esperienza importantissima, come tutte le esperienze sul campo, perché dà modo di, anzitutto di ascoltare le domande, i dubbi, gli interrogativi, che vengono dagli educatori, appunto da genitori e da insegnanti. E dà anche modo di capire di che cosa hanno bisogno, hanno bisogno, secondo me, e questo vorrei dirlo subito, di continuità, perché mi sembra che la domanda più forte che sia avvenuta in tutte le scuole dove sono andata, sia di non limitarsi a un esperimento sporadico, importante ma sporadico, ma di avere continuità, cioè di far sì che questo tipo di appuntamenti vengano regolarizzati e che si possa anche arrivare ad azioni concrete, che possono essere il controllo effettivo dei libri di testo da parte degli insegnanti, ma anche dei genitori, visto che non esiste più un progetto come Polite, che era il progetto europeo per le pari opportunità sui libri di testo per gli elementari, oppure la possibilità di realizzare da soli un libro di testo da attuare in base a principi non sessisti e non discriminanti. Credo che alla fine, per quello che riguarda me, è una messa alla prova e una restituzione senza pari quello che ha avuto, però anche la conferma di un'urgenza. In Italia non è possibile rimanere ancora privi di una legge che riguarda l'educazione sessuale di genere e l'affettività nelle scuole. La scuola italiana in assoluto, a mio parere, ha bisogno di centralità, cioè ha bisogno di diventare il primo pensiero, non soltanto l'edilizia scolastica, ma tutto quello che riguarda la scuola, la formazione degli insegnanti, gli strumenti da fornire agli insegnanti. In secondo luogo ha bisogno subito di una legge che stabilisca che fin dalle materne si cominci a lavorare sul genere, sull'affettività e anche sulla sessualità, come avviene nella maggior parte dei paesi d'Europa. avrebbe bisogno di un miliardo di cose nella tentazione, tutte molto spesse. Io credo che gli insegnanti sarebbero bisogno di essere motivati, riconosciuti, riconosciuti dal loro ruolo e la loro produzione. e non parlo solamente anche di quello che è un grosso problema, ma riconosciuti a livello di autorezza. Cioè ci dà di affrontare tutta una serie di problematiche relative anche ai figli che ci vengono affidati. Spesso le famiglie ci abitano, i bambini non hanno fiducia in noi. Ci sarebbe bisogno di ricostruire, di ricucire un rapporto tra la società, l'utenza, i genitori, gli insegnanti e anche la struttura che ci dovrebbe insegnare. In un ultimo l'amministrazione, il ministero, insomma chi più ne mette. Invece tutti questi piani fino adesso sono un po' scollati, cioè ognuno va un po' per conto suo e quindi è tutto dato alla buona volontà degli insegnanti che di fronte a certe problematiche c'è chi in un'altra e chi in un'altra, chi vuole affrontare la problematica come dicevamo prima, che si ritrova sempre in classe e chi invece fa finta e la ignora. Ci sarebbe bisogno di un sostegno, diciamo noi, di un sostegno soprattutto per noi, che ci dia gli strumenti e la forza per affrontare certe situazioni. La scuola ha bisogno di formazione specifica, la scuola ha bisogno di corsi di formazione perché la maggior parte del gruppo dei docenti spesso ha anche paura di rimettersi in gioco, spesso è sfiduciata, spesso pensa che ormai non ci sia più niente da dire perché tutto ciò che viene detto viene comunque consumato troppo in fretta e non viene capito. Io credo che il nostro compito invece sia quello di riadeguarci, rimettere la barra al centro, ripensare l'educazione e ripensare anche le modalità comunicative. Quindi dare molta importanza all'ascolto, essere sempre di più assertivi ed essere sempre più preparati a fronteggiare questi ragazzi che spesso confondono le emozioni, che non riescono a capire quali siano le modalità giuste di comunicazione, quindi poi i fatti di cronaca ne sono la punta di un iceberg. In effetti per troppi anni non abbiamo coltivato, io dico non abbiamo perché noi siamo una società adulta e quindi responsabile dell'educazione dei nostri giovani a 360 gradi, non abbiamo coltivato proprio l'educazione emozionale. La società si è evoluta, andiamo tutti troppo di fretta, ecco la prima cosa di cui abbiamo bisogno è momenti di riflessione, momenti di pensiero, facendoci aiutare anche dalle nuove tecnologie, perché è l'autostrada per lavorare con i ragazzi, perché la parola ha sempre il suo fascino, non l'insegnante ha il suo carisma, però certo con un iPad in mano ha due punti in più. Sicuramente se io riesco a pormi e a pormi sul loro piano, anche con i miei argomenti, lì le nostre distanze si accorciano. Invece se non siamo attenti col mondo che corre, i ragazzi che guardano in direzioni che spesso non sono proprio quelle giuste, li perdiamo, perdiamo l'orizzonte educativo e soprattutto non stiamo più al passo col mondo, perché il mondo questo è, gli insegnanti ci devono fare i conti.